Goditi, potere e bellezza della tua gioventù. Non ci pensare. Il potere di bellezza e gioventù lo capirai solo una volta passita. Ma credimi, tra vent'anni guarderai quelle tue vecchie foto e in un modo che non puoi immaginare adesso. Quante possibilità avevi di fronte. Che aspetto magnifico, vedi? Non eri per niente grasso come ti sembrava. Non preoccuparti del futuro, oppure preoccupati, ma sapendo che questo ti aiuta quanto masticare un chain gun per risolvere un'equazione algebrica. I veri problemi della vita saranno sicuramente cose che erano mai passate per la mente. E quelle che ti pigliano di sorpresa alle quattro, in pigro martedì pomeriggio. Fai una cosa ogni giorno che sei spaventato. Canta. Non essere crudele col cuore degli altri. E non tollerare la gente che è crudele col tuo. Lavati i denti. Non perdere tempo con l'invidia. A volte sei in testa, a volte resti indietro. La cosa è lunga, ma alla fine è solo con te stesso. Ricorda i complimenti che ricevi. Scordati gli insulti. Se ti riesci, veramente dimmi come si fa. Conserva tutte le vecchie lettere d'amore. Butta via le vecchie strati conto. Rilassati. Non sentirti in colpa se non sai cosa vuoi fare della tua vita. Le persone più interessanti che conosco, 22 anni, non sapevano che fare della loro vita. I quarantenni più interessanti che conosco, ancora non lo sanno. Prendi molto calcio. Sei gentile con le tue ginocchia. Quando saranno partite, ti mancheranno. Forse ti sposerai, forse no. Forse avrai figlio, forse no. Forse divertirai a quarant'anni. Forse ballerai con lei al 75esimo anniversario di matrimonio. Comunque vada. Non congratularti troppo con te stesso. Ma non rincoverarti neanche. Le tue scelte sono scommesse. Come quelle di chiunque altro. Goditi il tuo corpo. Usalo in tutti i modi che puoi. Senza paura e senza temere quel che pensa la gente. È il più grande strumento che potrai mai avere. Ballo. Anche se il solo posto che hai per farlo è il tuo soggiorno. Leggi le istruzioni. Anche se poi non le seguirai. Non leggere. Le riviste di bellezza ti fanno solo sentire orrento. Cerca di conoscere i tuoi genitori. Non puoi sapere quando se ne andranno per sempre. Tratta bene i tuoi fratelli. Sono il miglior legame con il passato. E quelli che più probabilmente avranno cura di te in futuro. Prenditi conto che gli amici vanno e vengono. Ma alcuni più preziosi rimarranno. Datti da fare per colmare le distanze geografiche e gli stili di vita. Perché io diventi vecchio. fai il bisogno delle persone che conoscevi da giovane. Vivi a New York per un po', ma lasciala prima che ti rimbollisca. Vivi anche in California per un po', ma lasciala prima che ti rimbollisca. Fai i pasticci con i capelli, sennò quando avrai 40 anni, sembreranno di un 85 anni. Sii incauto di accettare i consigli, ma sii paziente con chi li dispensa. I consigli sono una forma di nostalgia. Dispensarli è un modo di ripescare il passato dal dimenticatoio, ripulirlo, passare la vernice sulle parti più brutte. E riciclarlo per più di quel che valga. Ma accetta il consiglio per questa volta.